Si è svolta a Castellumberto la prima edizione dell'evento culturale Arte Pubblica Interventi ed Azioni d'Arte Contemporanea nel territorio dei Nebrodi, un mese di appuntamenti organizzati in collaborazione con l'Associazione Gli Occhi della Sicilia di Giuseppe Greco che hanno calamitato l'attenzione di importanti ed affermati artisti del panorama siciliano uniti dall'obiettivo comune di promuovere l'arte contemporanea quale strumento di riqualificazione dell'identità territoriale, una kermess che ha dato vita ad un vero e proprio villaggio d'arte urbano e che ha visto la presenza di prestigiosi artisti e di un folto pubblico. L'evento è stato caratterizzato in molteplici parti tra cui workshop, installazioni, mostre estemporane, land art, pittura, scultura e conferenze. La manifestazione Arte Pubblica ha rappresentato un evento capofila di altri appuntamenti a cadenza annuale che coinvolgeranno oltre al comune di Castellumberto anche l'Ordine degli Architetti di Messina e la Fondazione degli Architetti del Mediterraneo, il Parco dei Nebrodi, la Fondazione Fiumara d'Arte di Antonio Presti e l'Accademia delle Belle Arti Leonardo Da Vinci.